L'emergenza Covid ha profondamente segnato anche il mondo della pallanuoto. Per la Prorecco, la squadra con più titoli nel panorama mondiale, il ritorno in Vasca viene esattamente a più di otto mesi di distanza dall'ultima partita giocata il 7 marzo scorso in casa della Canottieri Napoli. La successiva interruzione forzata di tutti i campionati ha bloccato i biancocelesti che, dopo l'estate, hanno dovuto fare i conti con alcuni casi di coronavirus. A fine agosto era risultato positivo al tampone il presidente Maurizio Felugo. A metà ottobre i sintomi, riconducibili al Covid-19, si erano manifestati al giocatore Gonzalo Ecceniche, con conseguente isolamento fiduciario di tutta la squadra. Tornare a giocare per gli atleti rappresenta un grande traguardo. Abbiamo aspettato questo momento da tanto, perché il 3 ottobre dovevamo partire e non siamo partiti, poi è stato tutto rinviato, quindi abbiamo continuato con gli allenamenti e non vediamo l'ora di iniziare. È un altro modo di approcciarsi sicuramente, è difficile dal punto di vista sia fisico sia psicologico, ma noi abbiamo la fortuna di avere una società alle spalle che ci sta mettendo nelle migliori condizioni comunque di affrontare questa stagione, perché abbiamo un organico competitivo, quindi anche le partite che facciamo tra di noi sono costruttive e ci aiutano nell'allenamento e nel migliorarci. La Prorecco dunque riparte dal campionato di Serie A1 con un organico di livello, benché messo alla prova dell'emergenza sanitaria, consapevole di dover affrontare delle avversarie di qualità. Non mi aspetto un campionato che sicuramente ha alzato il suo livello nelle prime quattro squadre, si è rinforzato oltre al Brescia anche l'Ortigia e anche il Savona. Penso che sarà una partita come gli altri anni, nel senso che negli ultimi anni abbiamo vinto, ma è stata sempre una partita tirata, decisa con l'ultimo uomo in più o con l'ultimo uomo in meno, quindi anche quest'anno ci aspetterà una battaglia contro il Brescia che si è rinforzato e sarà così anche quest'anno.